vantarsi di un catalogo platone 428 427 avanti cristo non si conosce la data della morte filosofo e scrittore greco antico con il suo maestro socrate e il suo allievo aristotele apposta alle basi del pensiero filosofico occidentale in te eteto dice vantarsi di un catalogo di 25 progenitori fa risalire la propria stirpe fino a eracle è un conto che al filosofo pare straordinariamente meschino egli ride di quelli che non riuscendo a capire che il venticinquesimo antenato da anfitrione in su e ancora il cinquantesimo da codesto non furono né più nemmeno di quello che la sorte li fece così neppure sono capace di reprimere il vano orgoglio della loro anima stolida ebbene in tutti questi casi un uomo siffatto è ben deriso dal volgo sia perché come pare dimostri una sprezzante alteriggia sia perché ignora le cose più comuni e si smarrisce e si perde ad ogni momento commento il vantarsi l'orgoglio l'anima stolida la sprezzante alteriggia l'ignora le cose più comuni e si smarrisce e si perde sono tutti i segnali divinamente perfetti dell'insufficienza evolutiva di anfitrione insufficienza che è la sorte di cui parla platone grazie a tutti Grazie a tutti